Una vecchia rivalità sportiva tra i due campioni di cucinato, categoria Fesi-Negro Regiri, Vittorio Venturi e Clepolo Catelli, non ha trovato risoluzione in un atteso e combattutissimo incontro disputato al teatro Adriano. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro emetteva giustamente un vergetto di carità. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro emetteva giustamente un vergetto. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro emetteva giustamente un vergetto. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro emetteva giustamente un vergetto. Alla fine dei dieci tempi l'arbitro emetteva giustamente un vergetto.